Nella sua produzione poetica, il nostro non ha mai avuto timori nel mostrarci gli aspetti più duri dell'esperienza dell'immigrato. Nello specifico, la difficoltà di essere accettati e di trovare un senso di appartenenza. Il suo approccio spicca nella poesia contemporanea. Laddove altri autori tentano di mascherare quella sofferenza, o di trattarla per allusioni, l'autore la pone in primo piano e al centro, così che risulti ineludibile e debba essere affrontata. Grazie a tutti.